Prossima ascoltatrice! Tutti i giorni, milioni di persone la ascoltano. Se cerchi il principe azzurro, rischi di bruciarti. Sta dicendo che dovrei annullare il matrimonio? Ma quando la dottoressa Amore gli rovinò la vita... Patrick, è finita. Non fare così, Sofia! Vieni subito fuori, dobbiamo parlare! No, no, non lei, signore, abbassi pure le mani, siamo vigili del fuoco. Non arrestiamo le persone. Patrick non impazzì. Hai visto l'articolo sulle nozze della dottoressa Amore? Sì, quale uomo sano di mente la sposerebbe? L'ha sposato. Oh, no. Io pensavo che tu volessi fargliela pagare. Sono sposato! Cosa sono io? Lei è già sposata. Come si può rimediare? Salve! C'è nessuno? Siamo le vittime dell'anomalia di un computer. Ehi, lo sapete che abbiamo una futura sposina qui? Adesso... Lei è un vigile del fuoco. Lo sono e come. Quanto mi piacete. Le renderà la pariglia. Come vi siete conosciuti? Mai sentito parlare del wrestling? Basta! E le dimostrerà... Che cos'è poi la felicità? L'hai scritto tu il libro. Che l'amore non arriva per caso. Si è come radicata? No, niente radicamenti. Non finché ci sono io dentro. Uma Thurman. Colin Firth. Jeffrey Dean Morgan. Dipartimento Vigili del Fuoco di New York. Questione di sicurezza. Uscita dall'ascensore. Forza. Devo chiedervi di fermarvi. Basta con quello che state facendo. Un marito di troppo. Basta! Fermi per favore.